Quando una città si candida e riesce ad ottenere finanziamenti importanti è perché ha in sé il germe delle buone pratiche amministrative e di gestione di una progettualità e programmazione a lungo termine, che insieme con l'organizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale trasformano realtà territoriali in grandi attrattori turistici. Questo è il caso di Diamante, conosciuta come la perla del Tirreno Cosentino, che con una popolazione di circa 5.000 abitanti raggiunge durante la stagione estiva cifre da capogiro. 10 milioni di euro è la somma che è entrata in due anni nelle casse della città dei murales, tra fondi europei e regionali, per la realizzazione di opere pubbliche ordinarie, straordinarie e monumentali, come il campo sportivo, appena finanziato per 1.700.000 euro. A fare il quadro generale l'assessore ai lavori pubblici Pierluigi Benvenuto. Noi abbiamo cercato in tutti i modi intanto di migliorare quello che era il parco degli edifici che ci sono nel Comune di Diamante e un po' di implementare quelle che sono le offerte che il Comune di Diamante può dare tramite quelle che sono le realizzazioni di queste infrastrutture. Noi abbiamo migliorato i servizi, ma più che altro abbiamo rifatto il look al nostro Paese. Volevo ricordare Piazza 11 Febbraio, tutto il centro storico che adesso è in via di definizione. C'è stato un finanziamento di 2 milioni di euro per il convento e per i ruderi di Citella, un altro attrattore importante per la nostra collettività, per il nostro Paese. Ci sono tantissimi lavori sia sui servizi di pubblica illuminazione. Il 2016 ha visto inoltre due importanti inaugurazioni nella zona del Parco del Corvino. L'ex mattatoio che la provincia ha ristrutturato e diventato la sede del Peperoncino e poi c'è l'acquario marino che in effetti è un finanziamento che è stato dato al Parco Marino Riviera dei Cedri. Un acquario quadridimensionale e un attrattore nuovo insomma. Lei vuole lanciare anche un messaggio oggi? Io stimolo un pochettino i giovani, sia quelli che vogliono far politica che quelli che sono lì ad aspettare, che bisogna rimboccarsi le maniche e trovare in queste opere che stiamo realizzando un'opportunità per loro, per poter essere loro l'interfaccia della gestione di queste opere che altrimenti diventano una cattedrale nel deserto.